Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete dal titolo, vi andrò a mostrare come trovare i salvataggi di The Forest perché in molti mi state chiedendo sotto i miei tutorial su come appunto scaricare le ultime versioni di The Forest se scaricando la nuova versione, quindi aggiornando il gioco, i salvataggi rimangono o meno. Di standard i salvataggi rimangono, ma in caso voi voleste fare un backup potete appunto trovare i salvataggi in un modo molto molto semplice seguendo i passaggi che starò per fare. Vi basterà aprire appunto lo start e andare a scrivere %updata% andare a fare appunto invio e come vedete vi trovate nella cartella roaming. Voi tornate indietro di un passaggio, quindi cliccate qui avanti su appdata poi andate nella cartella local low, poi andate su sks e poi come vedete qua ci sono i salvataggi di The Forest. Vi basterà quindi copiare questa cartella, andare a fare copia e poi andare a rincollarla nel desktop così da avere un backup sempre a vostra disposizione, in modo che se aggiornando il gioco non ci saranno voi potete semplicemente risbattere qua dentro i salvataggi, magari eliminate prima la cartella che c'è qua dentro perché magari si è buggata ed incollate appunto il backup che voi avete fatto sul desktop e in questo modo i salvataggi ci saranno e continueranno ad esserci per tutte le versioni che voi vorrete. E quindi niente, questo era semplicemente un brevissimo tutorial perché me lo avete richiesto in molti appunto nei commenti e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!